Questa notte, verso le 23.30, è andato a fuoco un immobile a Partinico di proprietà del noto avvocato Giuseppe Rau di 65 anni. Le fiamme hanno avvolto l'abitazione che si trova al piano terra tra le vie Ragona e Risorgimento, utilizzata come seconda casa e in parte come studio professionale. Le fiamme sono state alimentate perché all'interno la mobilia era in legno, compresa la scaletta del relativo soppalco. Danneggiati i suppelletti, le immobili e annerite le pareti, il soffitto è leggermente anche il prospetto in pietra dell'abitazione. Fortunatamente sono stati diversi gli oggetti a salvarsi poiché si trovavano al piano superiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno cercato di salvare il salvabile e gli uomini del commissariato locale che non escludono nessuna pista. Intanto i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile e perciò le indagini ruotano a 360 gradi per stabilire la matrice dell'incendio.